Forse cadrai all'ultimo piano di una torre d'avorio Planando sopra le mani che sorreggono il volo e ti domanderei in che respiro profondo poi ti sveglio un sacco come formica peso non sentirai quando cadrai a terra respirerai brezza d'oriente che scalda l'estate mi stringerai l'ultima donna l'ultima madre e ti domanderai in quale linea del volto ti riconoscerò o se come come formica passerei di nascosto in questo piccolo regno accarezzo la vita tra capelli quel tanto che basta da domesticare a volte è il tempo di voltarmi e torna a graffiare si dice la schiena a morte in fianchi e ride ride come si ride dentro quando sei certi davvero una buona mano non fin già ma non importa l'importante l'importanza di sentire ma non importa l'importante l'importanza di vedere ma non importa l'importante l'importanza di ascoltare non importa l'importanza di sentire, e ti domanderai in quale punto di luce poi ti perderò, o se come, come formica, fiuterai dolcezza nelle dispense del mondo.